Pulito lo scivolone di Sassari, vendicata la sconfitta dell'andata. Alla Vitri Frigo Arena, Lavuello ottiene una vittoria di sostanza, battendo 85-74 l'Uno Telse Reggio Emilia e dimostrando pronto riscatto dalla batosta in Sardegna, così come riprendendo una marcia che la mantiene al quarto posto, salendo a quota 22 punti. Con il ritorno sul parquet di Capitano Delfino, la squadra di Repcia parte subito forte, prendendo il largo nel primo quarto, ma Reggio tiene e va all'intervallo con un equilibrato 39-36. Nel terzo quarto, Pesaro infila un break importante che la porta a più nove, ma gli avversari restano sul pezzo e tengono in bilico il match, che Lavuello vince con una solida fase difensiva e con uno score in cui spiccano i 19 punti di Abdurrahman. Nel calcio continua la striscia positiva della Vispesaro, che a Montevarchi inanella il quinto risultato utile consecutivo, rimediando un prezioso 1-1 in casa del Sandonato Tavarnelle che consente di evitare il sorpasso dei Toscani, tenerli due punti dietro e guadagnarsi il vantaggio negli scontri diretti. Il Sandonato passa dopo appena due minuti e mezzo di partita con Marzierli all'interno di un primo tempo di Vis sottotono. Vische gioca invece una bella ripresa e raccoglie il pari al 61esimo con un colpo di testa di Di Paola servito da Valdifiori sugli sviluppi di calcio d'angolo. In Seredi invece il Fanno si impone 2-0 al Mancini contro il Porto d'Ascoli grazie alle reti di Broso e Zanni in apertura e chiusura di gara. Sconfitta testa alta per l'Ital Service che fra mille problemi d'organico cade 5-2 in casa del Napoli, leader della classifica, aggredendo il match di Aversa che vede Pesaro due volte in vantaggio. Prima con Murillo Schiochette raggiunto poi dal 1-1 dall'ex Borruto. Ital Service di nuovo avanti con Pires e di nuovo raggiunta da Borruto per il 2-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Napoli fa valere la sua forza passando in vantaggio e gonfiando il punteggio sul 5-2 finale costruito sulla forza degli ex. Alla fine sarà tripletta per Borruto e doppietta per Mateus. Napoli sempre più primo, Ital Service di nuovo nei play-out ma con l'atteggiamento giusto per allontanarci sin fretta. Gioia nel volley per la Megabox Vallefoglia che a Urbino ha ragione di Pinerolo in 4-7 per il 3-1 finale.